La lente Vivity Head-off. Abbiamo finalmente a disposizione una lente intraoculare da cataratta veramente fantastica. Questa lente ha aperto una nuova frontiera nella correzione della presbiopia nei pazienti che vengono operati di cataratta. Abbiamo una lente che sicuramente non dà nessun tipo di effetto collaterale, quindi una lente molto sicura, non siamo lontani dai difetti delle trifocali, quindi da quelle lenti che danno l'olio intorno alle luci di notte. La lente Vivity invece è paragonabile a una lente da cataratta normale, quindi un normale intervento di cataratta in cui viene impendata una lente di plastica, una lente acrilica e dentro l'occhio, ha degli effetti collaterali all'inizio quali disfotopsie negative e all'olio intorno alle luci che poi dopo tendono per la maggior parte a risolversi. La Vivity ha gli stessi difetti di una lente normale, quindi pressoché zero. Ha il vantaggio di avere, grazie alla costruzione sulla sua superficie di una piccola area con una capacità di addizionare 1,5 diottrie per il vicino, di dare un buon intermedio, quindi il paziente con le Vivity impiantate vede molto bene l'intermedio, l'intermedio è il computer, è il device quale il telefonino e in condizioni di buona illuminazione ambientale la grande maggioranza dei pazienti riesce a vedere bene anche da vicino, quindi riesce anche a leggere. Ecco quindi finalmente una lente che dà un lontano perfetto senza disturbi, un intermedio molto buono e un vicino buono soprattutto in condizioni di grande luce e consente una versatilità di utilizzo amplissima. È una lente che può essere impiantata anche dai chirurghi meno esperti, che può essere impiantata anche a quei pazienti che hanno paura di avere all'uomo intorno alle luci, quindi di avere degli effetti collaterali negativi soprattutto di notte. Quindi tutti quei pazienti che non vogliono nessun tipo di difetto, di effetto collaterale da lente multifocale e che si accontentano da vicino di avere una visione medio buona. Questa lente è la lente per loro.